Parli ancora nel sonno, eh? Certe cose non cambiano mai. Strambo. Palla di pelo. Grazie per l'ospitalità. Prego. Perché mai avrei tenuto le tue cose per anni? Sì. Speravo che passassi di qua e magari facessi una pausa. Sai che succede quando mi fermo troppo in un posto. Hai detto che c'è un giroscopio da qualche parte. C'è tutto il tempo per sistemare la Mantis. È di te che vorrei parlare. Sto bene. Dobbiamo ripartire subito. E poi andrai a caccia di guai con suo guerrera? Forse. Sì. Qualcuno deve continuare a lottare. Che strano. È la stessa cosa che hai detto quando ci siamo separati. Sì, perché... Senti. Avevate un motivo per andare via. Ma questa non è un'opzione per me. Io devo lottare. E questo dove ti ha portato, Cal? Vorrei che le cose fossero diverse, ma... Continui a perdere i tuoi cari. E hai detto tu stesso che l'impero diventa più forte ogni giorno. Forse è arrivato il momento di guardare oltre la tua spada laser. Prenditi cura di te. Sistema. Ti trova una casa. Quale casa? Gris. Non esiste. Era l'ordine. Il mio maestro. Tutti quelli che ho perso. Il loro sacrificio sarebbe vano se ora... Me ne andassi e mi nascondessi. La vita ti ha servito delle brutte carte. Ma tu devi fidarti di me. Perché io l'ho imparato a mie spese. Bisogna saper lasciare una partita quando è truccata. Ho un rischio di perdere qualcosa che non potrai mai sostituire. Come vuoi. Voglio mostrarti una cosa. È un tunnel per il contrabbando, incluso con la taverna. Dai pure un'occhiata. Tengo molti pezzi di ricambio laggiù. Scommetto che troverai quello che ti occorre per rimettere in sesto la Mantis. Grazie. Lo apprezzo molto. Cal, posso dirti una cosa? È davvero bello vederti di nuovo. Anche per me. Gris. Ci rifletterò su. Ehi. Guarda dove metti i piedi là sotto. Ho un piccolo problema di parassiti. Ebbene sì, signori. Benvenuti in questo nuovo episodio. Abbiamo avuto un risveglio e una conversazione non da poco con il buon Gris. Avventuriamoci in questo scantinato barra tunnel barra cose. Sarò sincero con voi. Ho avuto un enorme problema tra terzo e quarto episodio. Ovvero ho dovuto rigiocare tutta la parte del gioco fino ad ora. Quindi quella che vedete adesso è tutta una nuova run rispetto a quella che avete visto fino a prima. Ho potenziato Cal nella stessa identica maniera. Questa parte del gioco l'avevo già giocata e già registrata. Ma la riregistro assieme a voi così non ci perdiamo nessun pezzo e nessuna battuta, nessun niente. Il discorso fatto tra Cal e Gris è molto importante secondo me perché sta proprio nella differenza tra i comuni esseri della galassia e i Jedi, no? I comuni esseri della galassia sanno che la battaglia è persa contro l'impero. È una potenza troppo grande per poterci combattere. Ma i Jedi come Cal non mollano nonostante tutto. E mi sento un po' un Jedi anch'io a non aver mollato e ad aver rifatto tutto il gioco da capo perché mi si è incastrato con un bug che ho scoperto è abbastanza comune. In questa... Poraccio. In questa prima build dopo la patch del day one di Star Wars. Mannaggia al sacro... Tranquillo, piccolo. No? Romano impero. E vi chiederei ancora più a cuore aperto un mi piace visto che mi sono dovuto rigiocare il gioco. Meno male che questo bug è successo un paio d'ore dentro il videogame. È sempre bello e divertente il gameplay anche da rigiocare. Eh, però, insomma, ad averlo potuto evitare avrei fatto volentieri. Allora, vediamo se questi mi attaccano. Sì. Oh, aspetta. Merda. Allora, io ho sbloccato... Ecco, anche questo tipo di roba qua, anche con la doppia spada. Spinge. E ora che c'è l'attacco... Boom! In salto. Easy. Easy, easy, easy. Come si chiamavano questi? Divoratori, ecco. Ho esplorato un po' di più in questa seconda run. Non ho visto niente di così interessante da dovervelo farvi vedere. Però ho sbloccato qualche colore in più per BD1, qualche colore in più per me, qualche punto abilità in più. Quindi sono leggermente più prestante della forza nel combattimento rispetto a quello che ero nella run dei primi tre episodi. Ma insomma, vabbè. Niente di troppo. Anche perché a Kobo... Molta parte delle strade sono bloccate per adesso. Quindi non è che si può esplorare chissà quanto, in realtà. Boom! Ok. Ricordo che stiamo cercando un pezzo della nave. Io non vedo l'ora di capire come mi insegneranno a sbloccare questi. Perché? E vola giù, bastardo. Perché prima o poi me lo spiegheranno di sicuro. Cioè, non c'è... Altra... Spiegazione. Questo non si apriva, se non sbaglio, no? Esatto. Capiremo poi. Olè. E olè. Eccoci qua. Ah, eccolo! Bella per BD! Come sempre! Le cinematiche hanno veramente una grafica spaziale, comunque. In sto gioco, devo dire la verità. Non che il gioco no, il gameplay no, eh. Però... Un bel salto nel vuoto, eh? Prima torniamo da Gris e prima... Meglio dare un'occhiata. Eh sì. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora... Ho imparato dei miei errori e devo stare molto attento a quello che faccio. Perché è proprio in questa camera qui che si è avvenuto il bug. Se magari qualcuno non è ancora arrivato qui, non ha ancora comprato il gioco, per ora sappiate che se riposate qui, uscite da questa camera, tornate su e schiattate, rinascete qui su. Il viaggio rapido non c'è, le porte non si aprono più e rimani bloccato fin qui e devi ripartire nel gioco da capo, come ho fatto io. Quindi, adesso facciamo quello che ho già fatto. Sembra quasi un campo d'addestramento Jedi, ma ha un'aria diversa, più antica. Eh sì. Adesso scopriamo perché è più antico del tempio Jedi. Quindi, eh, dicevo, be aware, se siete da queste parti e non so se avranno ancora fatto una patch, se l'avranno patchato, questo tipo di cosa, sappiate che purtroppo può succedere. No, non ti buttare nel vuoto, per piacere. Ok, bravo calco. Cos'è questo posto? Ma io che cavo... No, in realtà lo so perché ho visto questo pezzo di storia, però... Disastro. Come chi ha fatto questo gioco? No, va bene. Eccoci. Allora, qua dobbiamo creare i ponti per... Passare oltre. Sì. Attento, P.D. Sono giunta appena ho potuto, padrone P. Mi dispiace molto. Sarà cancellata tutta la memoria? No. Solo di ciò che ha richiesto il consiglio. Allora, almeno, mi ricorderò di te. Sono pronta. Qual è il tuo nome, Broide? Sono ZNA4, ovviamente. Come posso servire l'ordine? Z. Dimmi come attraversare l'abisso di Kobo. Non ho informazioni in merito nei miei banchi di memoria. Padrone P. Sai che la Repubblica ha emanato un ordine di evacuazione su larga scala? Lo so. Per questo ho un incarico molto importante per te, Zata. Prendi questo. Un modulo? Oh, che pregevole fattura! Oh cielo! Usalo, per aprire il meccanismo. Vanno i sotterranei senza fermarti mai. È un ordine Z. Non ti accompagnerò. No. La chiave per Tannalor è in quel meccanismo, se non ti sbrighi. Forse andrà perduta per sempre. Che la forza sia con te. Questo droide deve essere qui sotto da secoli. Buongiorno. O forse è notte. Qualcosa non mi torna. Il tuo nome è Z? Sì, esatto. Come... Oh no! Sono in trappola. Sono in trappola da... Quanto esattamente? Io sono Cal. Lui è BD. Ti aiuteremo noi. È un piacere conoscervi. Accetto più che volentieri il vostro aiuto. Ebbene sì, signori. Ecco perché queste strutture, giustamente Cal aveva detto, mi sembrano particolarmente vecchie. Proprio perché lo sono particolarmente vecchie. Risalgono all'era dell'Alta Repubblica. Che è un'era poco esplorata all'interno per adesso. Eh sì. No, no, no. Sono... Sono proprio un Jedi. Ma non indossi neppure il bestiario adatto. Sono più un tipo da poncho. Questa... Reference al primo gioco. Bellissimo. Questo droide mi sembra un po' sbullonato. Sì, è un... Io ho detto... Coraggio, Zeta. Chec. L'Alta Repubblica è un'era poco esplorata all'interno della timeline di Star Wars che dovrà essere maggiormente esplorata con il film che hanno annunciato per... Devo dir la verità, non ho capito quale... Arco temporale d'uscita. L'hanno annunciato poco fa a una delle conferenze. Star Wars Celebration, mi pare fosse. E... L'era in cui... Fai con comodo? Sono bloccata qui soltanto da un po'. Non trovo il tuo nome nelle mie banche dati. Quando hai superato le prove? Mai affrontate. Mi hanno insegnato sul campo. E il motivo di questa evidente violazione del protocollo? È una lunga storia. Dicevo, un'era molto antecedente alla Repubblica che conosciamo noi, in cui praticamente c'era l'equilibrio nella forza, nell'epoca del prime dei Jedi. Non ho ben presente, perché non ho letto i romanzi in cui è raccontata l'Antica Repubblica, come si sia arrivati alla situazione dei prequel, per capirsi. Ovvero con l'ordine dei Jedi ancora presente, ma tutto non corrotto, ma comunque che ha quasi perso la via, no? Che si è fatto pian piano oscurare dal lato oscuro. Sì. Sarebbe bello avere qualche informazione in più, mi rendo conto, però magari ce la dirà anche il gioco, eh. Arrivo, cara, arrivo. E il droide ha chiesto a Khal, non ti trovo nell'elenco dell'ordine. Ovviamente no, perché lui è diventato effettivamente un Cavaliere Jedi dopo che l'Ordine 66 era già successo e quindi l'Ordine dei Cavalieri Jedi era scomparso dopo l'epurazione. E di conseguenza, se non lo sapete ve lo dico io, per diventare da Padovan a effettivamente Cavaliere Jedi dovevi superare tre prove. Sono raccontate nella serie animata dei Clone Wars. Adesso non me le ricordo di precisione, ma erano tipo sconfiggere un nemico, tipo un Sith o comunque un qualcosa del genere. Delle prove anche morali, non solo effettivamente di combattimento. E lui è stato, come ha detto, insignito sul campo nel primo gioco da Seer. Quindi è un po' un Cavaliere Jedi un po' particolare. Ma, d'altronde, non c'è più l'ordine, quindi sì. Non c'è di che... Ora, se non ti dispiace, mi hanno trattenuta fin troppo. Non ora, tieni duro. Posso dare un'occhiata? Oh beh, devo ammettere che mi servono delle riparazioni. Fatti aggiustare. Allora, Zeta, cos'è Tanalor? Un pianeta, nascosto nell'abisso di Covo. Ospita, un Tempio Jedi. Un baluardo della luce dell'ordine sulla frontiera galattica. O almeno questa era l'idea che la mia padrona aveva per Tanalor? Così dovrebbe bastare. Devo capire come uscire da questo posto. Beh, io posso aiutarti. Era di qua o di là, no? Oh! Sì, è da questa parte. Seguimi. Debo. Cioè... Ci penso io, tranquilla. Purtroppo no. Peccato. Comunque le saresti piaciuto di sicuro. L'uscita è di qua. Il tuo arrivo è stato providenziale. Volevo farle finire la frase, però, insomma, abbiamo ottenuto questo beneficio che mi consentirà di apportare modifiche significative al tuo stile di gioco. Inizia con tre slot beneficio disponibile. Puoi sbloccare altri man mano che procedi. Benefici più potenti possono richiedere più slot. E lo equipaggeremo poi nella meditazione. Adesso vediamo di non fare cazzate e non rimanere incastrati qui. E andiamo avanti, va. Forza. Adesso lei apre la porta. Che da solo poi non si apre più. Eccoci. Qualcina età che dicevi? Come? Analor? Un uomo meraviglioso. Come ci arrivo lì? Attraverso l'abisso di Kobo. Devono essere i dati che la tua padrona ha rimosso dai tuoi banchi di memoria. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Chissà perché l'ha fatto poi, tra l'altro. In un periodo di pace, in teoria. Chissà. Chi lo sa? Chi lo sa? Che carini. Questi gavi fanno morire. Bellissimi. Sono davvero rimasta addormentata molto a lungo, non è così, Carl? Eh sì. Sì. Ma non temere. Non sei sola. Ti aiuterò a rimetterti in piedi. Il tuo abbigliamento non è certo il più consono, ma... Ma è bellissimo, non rompe le palle. Non ho assoluta certezza che sei un Jedi. Bene. Andiamo. Arriverò tra un attimo, Carl. Non devi aspettarmi. Che indifici bizzarri. Oh, quello cos'è? Falla una domanda, eh. Quando hai voglia, falla una domanda. Allora, adesso non facciamo cazzate, perché io da qui l'altra volta cosa ho fatto? Ma andiamo un po' ad esplorare. Sono morto, sono riportato da sotto e mi sono incastrato e ho finito il gioco. Quindi, visto che ho esplorato prima, stavolta seguiamo il droide, torniamo da Gris, diciamoli che abbiamo trovato il pezzo di ricambio. E non solo, perché abbiamo fatto una scoperta fondamentale. Che ci sono anche un altro Tempio Jedi. Oh, bode. Senti, amico, ti ho già detto che sei nella taverna sbagliata. Non conosco nessuno che si chiami Carl Kestis. Ehi, Gris. Ah, quel Carl Kestis. L'ho trovato. Ce l'hai fatta? È bello vederti. Gris Draitus, lui è Boddakuna. Era su Coruscant. Non ce l'avrei mai fatta senza di lui. Oh, bene. Piacere di conoscerti. Purtroppo, al momento, non credo di avere altri letti disponibili. Aspetta, ancora un altro. Carl. Dovresti smetterla di raccattare gente per strada. Io sono ZNA4, umile servitrice dell'Ordine Jedi. Oh, qualcuno è rimasto un po' indietro. Era rimasta sottoterra. Non ho mai visto un modello così. Sembra un pezzo d'antiquariato. C'era qualcosa laggiù che valesse dei crediti? Crediti? Cal, tu mi hai salvata, ma avrei ancora bisogno del tuo aiuto. Ah, e ti pareva? La padrona Santai mi ha detto di aprire il meccanismo della foresta, ma in questo stato non posso completare l'incarico. Ti prego. Se io fallissi la chiave per Tanalor andrebbe persa per sempre. Sì, assolutamente. Nessuno sa sparare come lui. Ok, noi pensiamo alla Mantis. Io cerco nella foresta. Grazie, Carl. Appena tornerò pienamente operativa, ti raggiungerò al meccanismo della foresta. In marcia! Zeta. Calma, vedi a mia. Perché non fai riposare quei propulsori mentre loro si occupano di tutto? Vieni, posso farti revisionare, lucidare e aggiornarti sulla galassia. Cal, chiuderò il saloon per evitare che i predoni lo distruggano. Usa la porta sul retro, ok? Va bene. Va bene, va bene. Va bene. Esplora il saloon di Piloon. Piloon. Non mi ricordo qual era la pronuncia giusta. L'avamposto di metapromessa sta migliorando costantemente. Sono disponibili nuovi negozi e attività. Ah! Negozio di Doma sbloccato. Che abbiamo visto dai trailer, dalle cose, quello dove si possono comprare le acconciature, i vestiti per Cal, quelle robe lì. Che ho un po' di frammenti, io. Recluta per l'avamposto. Nella galassia Cal può incontrare nuovi possibili residenti che possono contribuire a migliorare l'avamposto di metapromessa. Ah! Torna qui per averli reclutati per Kobo. Figo! Modulo di Kobo. Ah! Vuoi dirmi che adesso finalmente posso sbloccare... Apri il cancello della foresta. Vuoi dirmi che adesso finalmente posso sbloccare tutte quelle porte... Ah! Cazzo, sarebbe... Una goduria. Questo palco ha visto giorni migliori. Qualche anno fa, il cancelliere supremo ha deciso che la democrazia... Aspetta, sto leggendo che gli sta raccontando del... Temo sia così. Di questi tempi è un'impresa trovare un pianeta che sia libero dal controllo imperiale. Un'autentica sagù. Sì, esatto. Cilio, mi sembri giù di batteria. Che ne dici di fare una pausa per ricaricarti un po'? Sì, suppongo che sia il caso. Mi sta raccontando quello che è successo nei film, praticamente, di Star Wars. Bellissimo. Una bella lavatina di mani. Pisciatina. Ma che cazzo. Io non voglio sapere com'è finito lì. Ma? Ho preso pure un trofeo per questa cagata, in tutti i sensi. Vabbè. Quindi da questa uscita qui non posso più uscire, mi sta dicendo. Invece sì. Vabbè. Ok. Allora. Io volevo provare se si può... A vedere... Eh, scusami. Qual è il negozio? Voci. Però ti leva un posto di Doma. Qui, dietro di me. Qui? Dove è un negozio disponibile? Banco da lavoro. Madonna, niente da vedere. Oh, hai un droide molto utile. Allora. Questo codice apre la porta bloccata nel negozio di Doma. Dieci. Ah, poi le capigliature. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. La roba da vestire. Ok. E questo cosa serve? Brano musicale. Questo anche fa il paro con la maglia che abbiamo delle Clone Wars. Coi parastinchi, le cose tipo Clone Wars, appunto. Questa è la canotta di Luke. Poi ho gas, ste robe. Bello, porno baffo. Eh, boh, prendiamo la chiave misteriosa, dai. E la roba che costa di prima. Abbiamo giusti dieci. Sai riconoscere un buon affare? Un predone buono a nulla ha cercato di manomettere la porta del mio magazzino e ora non si apre più. Forse il tuo piccolo droide può aprirla con questo codice criptografato. Non ci credo, l'hai aperta. Prendi pure tutto quello che può servirti. Uh, questo è uno Steam in più. Eh, beh, worth. Worth, assolutamente. Quattro Steam assolutamente da prendere. Prendi. Olè, dagli il cinque. Tuck. No, niente stavolta. Che carino, vi di uno, madonna mia. Olè. Quarto Steam. Perfetto. Grazie cara, la prossima volta vengo a prendere i gambalotti o non lo so. In realtà manco da lavoro, non me ne faccio niente. Direi allora di proseguire adesso. Sì, eccoli là. Quattro Steam. Diamo un'occhiata alla mappa. Allora, qui io ho sbloccato una missione secondaria, tra l'altro. Che a questo punto faremo magari in un altro momento. Come vedete ho esplorato un po' di più. Neanche tutto. Perché certe vie sono ancora bloccate. Eh, mi sembra strano che sia ancora tutto rosso e non verde con quel coso che ho sbloccato. Boh, vabbè. Eh, andiamo avanti come vi dicevo. Poi farò qualche sessione di esplorazione per gli affari miei e lì, in caso mai, vi racconto. O vediamo assieme se c'è qualcosa di interessante. Ah, là dobbiamo andare. Ok. Cos'è una stalla questa? Di cosa? Ah, di quei cosi lì che sono impiantati fermi. Ma che fanno? Ma cos'è sto rumore? Uh, dio, ma c'è un ala X lì sotto. No, ala Y forse. Non lo so. Allora, aspetta che prendo il droide. Non mi attacca. Preva. Vieni qua. Adesso ci regoliamo. No! Come ha fatto a prendermi? Ti distruggo. Sì, sì. Saluta il braccio tuo, va? Ma questo... Ah, è il retro di dove ero prima. Quanto vorrei guidarla quella cosa lì, guarda. Sì, non è un ala X. Questa è forse un ala Y. Oddio, coi nomi delle navi ho sempre fatto molta, ma molta confusione proprio. Però qui non mi sembra... Ah, ok, in un altro momento. Forse sarà da reclutare qualcuno che gestisce l'hangar anche, perché a questo punto se ci han detto che vanno reclutate le persone. Qua mi sembra tanto di un'arena in cui si combatte un boss. Ma il boss per ora, quantomeno, non c'è. Io dove sono andato? Orca boia. Ok, sono andato da una parte in cui non serviva. Ok, allora andiamo nella seconda via su tre. Rio della Truffa. Rio della... Che nome è? Ah, qui non si sale. Potrebbe essere la parte giusta, visto che è apparso un nome di una nuova zona. Che bella questa parte qui, tra l'altro. Allora, qui non mi sembra si possa salire. Sì, la porta è lì. Dovrebbe essere giusto. Bisognava correre... No, no, ma mi devi correre dalla parte giusta, amico mio. Perché se no... Eh, eh, impazzito. Allora, qui sotto sento rumore di mostri. Sì, infatti. I trovi di mi fanno spaccare. Oh, lì c'è un punto di meditazione. Direi che è il caso di... Muschio dorato. Ok. Si trovano robe qua, veramente a caso. Allora, meditiamo. Così salviamo anche per il viaggio rapido. Abilità. Abbiamo un punto che userei... Non lo so. Vabbè, allora senti. Aumentiamo la salute che danno gli Steve. Che comunque... Schifo non fa mai, eh. Anzi. Anzi, visto che sono rimasto bloccato perché sono morto come un coglione. Direi che... Non morire. E' piuttosto importante. Qui manca un pezzo di ponte. Oh, ecco lì. Ah, però in teoria posso... Oh, bello! Le cose si fanno interessanti. Vieni, vieni, sì. Ti interesso io. Deo! Bellissima questa! Questa non me l'avevo ancora mai fatta. Gas totale sta esecuzione qua. Allora, però, lì giù, secondo me, non andiamo da nessuna parte. No, torniamo dove eravamo prima, infatti. Allora, sarebbe da capire come andare... Allora, qui c'è ancora una via che è quella sotto. Che sai che a questo punto forse... Forse la via sotto, ovviamente l'ultima che ho pensato di provare, sarà quella giusta. Vediamo. Qui non ci siamo mai andati ancora. Oh, 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 oh. Oh, Q2, non l'avevo visto. Mi son cagato addosso. No, ma non deve... Oh, mi hai rotto il cazzo, eh. Mi hai rotto il cazzo, mi hai rotto. Usiamo un po' anche la doppia spada. Volevo prendere il missile, invece mi ha preso lui. Q2. Questi sono dei pezzi di merda, eh. Questi sono dei veri pezzi di merda. No! Ho sbagliato, quello era inschivabile. E vaffanculo. Ok. Uh! Dammi qualcosa di carino. Un vestito, un taglio di capelli, non lo so. Oh! Pantanoni tattico. Sono questi che ho su? Superstite. Tattico. Rottamatore. Ah, bene, tattico. Dai, ci sta. Vai. Da quegli affari lì cosa sarebbero esattamente? Arrauca. Nativi di Kobo. Rappresentano bene il pianeta. Schivi? No, scusami. Vabbè, schivi, ma... Aggressivi se minacciati sarà stato? Non lo so, vabbè. Eh, sterminiamone un po' la popolazione. Ok. Poco... Eeeh... Molta calma. Molta calma, eh. Sto percorrendo, come vi dicevo, l'ultimo percorso tra i tre che abbiamo visto. Ah, lì si può salire anche, ma... Ma in realtà a me non interessa arrivare lì, perché ero prima lì, quindi... Continuiamo giù per qua. Anche se giù per qua poi c'è la cascata, che non mi sembra scavalcabile. Quindi sì, forse è una certa... Oh, no, fate... Oh, ah no, aspetta, aspetta, che senza volere... Guarda che... Uuuuh, che ho trovato? Cos'è? Oddio, che ho trovato senza sapere? Ah! Ah, quelle sfide Jedi! Ok, quelle che si vedevano anche nel trailer. In teoria, ogni volta che salti... Cambia... Ok... Ah, ma perché vedi davanti il coso? Allora, sto fermo, piuttosto. Ok... Beh, mi darai qualcosa indietro, no? Scusami, completo. Dissolutezza distorta. Che figata, sono delle stanze di... Meditazione, di esercizio, diciamo. Non so se... Tutto abilità ottenuto. Come se mancasse qualcosa. No, ma non volevo tornarci dentro io, però. Guarda che roba che stavo perdendo... Mi stavo perdendo dietro la cazzo di cosa. Ci sono andato per sbaglio. Pensa, sto gioco è maledetto da queste robe, eh. Devi andare dappertutto. Dappertutto devi andare. Cioè, non ci sono... Non ci sono cazzi che tengono. Tu devi andare dappertutto. Allora, direi che la strada giusta, quindi, a questo punto, è questa qui. Superiamo la cascata. E scendiamo qui. E abbiamo a che fare con sto mostro qua, adesso. Vediamo un po'. Ma diventa mio amico? No, no, infatti, eh. Figlio. Ah. Ok. No, 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 no. Via, via, via. Aspetta che c'è anche il... No, no, vabbè. Secondo non si è via, però. Aspetta che c'è anche questo. No, no, no. calma bello pulito pulito ti hai scoperto iracondo iracondo gli iracondi grandi e dalla pelle spessa vivono fra rupi, caverne e anfratti di cobo, beh difatti quando vengono disturbati reagiscono ferocemente con acidi, morsi, sputi e cariche e la madonna, si effettivamente l'abbiamo viste tutte compresi gli sputi velenosi ok, ma è quindi forse neanche qui si va da qua ah si forse si, aspetta aspetta, aspetta aspetta, aspetta qui ok è caso di saltare è quello mi sa che per adesso non posso, o devo planarci poi con l'animale da qualche parte lì e quello in teoria ti dà un punto esperienza o un ammento della forza, quelle cose lì eh, vediamo se magari ci posso tornare dopo mi sa che per adesso non sono in grado ah, siamo andati dall'altra parte del ponte che cazzo ma che cazzo no aspetta, ma questi non sparano o hanno l'arma da corpo a corpo vabbè però debì uno da battaglia in mischia infatti, ok punto abilità ottenuto ok oh si, grazie tattico non è che mi piaccia molto devo dire eh ah, frammento ok perfetto siamo arrivati qui forse attivo una scorciatoia per passare sul ponte perfetto chi? che c'è? oh cazzo allora vedo un cazzo però bellissima sta roba bellissima sta roba ok sbloccato la scorciatoia eh, vedi il nemico del mio nemico è mio amico no? si suol dire dopo tutto peccato che anche il nemico del mio nemico voglia uccidermi ma insomma vabbè allora qui in teoria con la chiave che ci ha dato sac si comincia apre cancello della foresta oh cazzo ah che cambio di 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 bioma si direbbe su minecraft totale madonna il meccanismo è qui da qualche parte siamo costretti a passare di là hai visto anche tu biddy cos'è? non siamo soli pare che sia bloccata aspetta biddy vediamo cosa posso fare devo spingerli dentro con la forza perchè questa cosa l'abbiamo vista nello showcase del gameplay che cos'è? ah ok questo cosa sa cosa viene giù no è solo per uccidere i mostri forse o a caso vabbè ah no era per prendere un frammento ok questo va boom ecco qua vai rifacciamolo posso prenderlo anche da qui il cavo si scorciato e la sbloccata ottimo fammi vedere se per caso mi sono perso qualcosa non sembra vai no madonna stavo per saltarmi il vuoto vamos oh segato a metà via ma è cosa è una rotta mi sembra l'impero ok quindi forse vedremo l'impero e i saccheggiatori che si combattono tra loro potrebbe essere c'è qualcosa nascosto qui no l'unica via sembra questa no mi sembra un po' la rotta la rotta segreta per arrivare sul pianeta quello che ci serve quello che forse stiamo cercando non lo so o magari poi si viene a scoprire che c'è un altro olocrono perché non ce ne dovrebbe essere uno solo in teoria no quello che abbiamo distrutto nel primo gioco di cui si parla spesso qui oh vabbè io intanto medito sai abbiamo due punti abilità tra l'altro usiamoli per quelli che volevamo sbloccare prima ovvero la trazione doppia che richiede due punti con L2 e triangolo molto bella e molto utile secondo me questa qui i predoni odiano gli imperiali tanto quanto noi vedi vedi clone wars once again solo che i cloni non sono più i buoni e c'ha lo scudo caro mio ma voi sparate a me seriamente sei proprio stupidi allora di ebono devono aver lanciato quel guscio direttamente dalla lucreurk aaa ok e dobbiamo scansionare anche lui che è un nuovo tipo di nemico soldato con scudo eccolo qua i soldati con scudo vengono schierati ovunque l'impero abbia bisogno di neutralizzare le insurrezioni beh qui mi sembra il posto giusto no lì si va veramente da qualche parte sembra una scorciatoia che non ho ancora sbloccato così a naso attacchiamo quelle teste a secchio teste a secchio gas zitto zitto no io se posso posso andare fino là a prendere quell'altro non vero vabbè eh si grande che spicace eeeh 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 eh vaffanculo anche te molla sto scudo annaggia o mi dovete fare incazzare madonna di dio sono delle uova generazioni di roca sono cresciute qui poi è arrivato l'impero che ha ucciso e distrutto tutto ciò che ha trovato strano se sta storia diverso ecco infatti 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 quello che volevo dire io appunto strano cioè lo fanno dappertutto ma c'è modo di sbatterlo che non sia perché poi se mette lo scudo è un casino non mi pare ci sia modo di batterlo che non sia levandoli lo scudo al momento non so forse con qualche combo che magari non ho ancora sbloccato non lo so ah ecco questa è la scorciatoia che immaginavo prima vabbè e questa era palese ok però noi in realtà mi sa che dobbiamo continuare giù adesso cavoia non l'avevo visto oh no e non posso lui non posso ok bello no ok no 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 eh lo sputo cazzo per il mamma mia c'è lo sputo di vita madonna son vivo non so come bella 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 questa combo che belle le finisher di questo gioco godo godo fortissimo godo dove vai bd trovato niente bd la vendetta dell'iracondo si gode oh aspetta 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 va bene con quello che ho sopra però si potrebbero mettere poi casomai eh ah così proprio e che meno dovrei fare oh che bomba ce lo creiamo noi il la strada dai che figata è sta roba io non c'era niente che ho perso vero ma sembrerebbe proprio di no a giudicare dalla mappa ah no no ma torni indietro tu no aspetta aspetta calma 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 non mi ero corto no torna lì eh non ho sbagliato no ma solo l'ultimo torna indietro però ho la capacità di sbagliare queste boiate che veramente ogni oltre oltre ogni logica e dove devo andare qui ah ok pianino sai cari dubito che Z sarebbe riuscita ad arrivare fin qui ma ovviamente ai tempi di Kree non c'era di mezzo l'impero cosa darei per vedere uno scorcio di quella galassia ciao cari questa è roba dell'impero no non ti accarezzo scusami sono un attimo distratto io non voglio problemi ma che cazzo rischio a ricerca e tu chi sei niente paura sono un amico madre delle lune che sollievo io non so combattere volevo vedere quella struttura dell'alta repubblica non mi aspettavo di dover colpire delle bestie con il mio diario scusa straparlo brutto vizio io sono Toa comunque io sono Kal lui è BD1 senti l'impero non sarà affatto contento di trovarti qui perché non torni subito alla meta mi sembra un buon suggerimento ah lei è una di quelle che poi abbiamo reclutato per il per il villaggio probabilmente come ci aveva detto prima il tutorial tra virgolette diciamo ah ok e questa è la scorciatoia che sblocco che abbiamo visto prima eccola ok ma quindi noi non dobbiamo tornare indietro eh dobbiamo andare di qua che è successo altri imperiali godo coglioni godo godo fortissimo guarda godo godo fortissimo ti do ti do ancora un attimo di tempo per prepararti che vado un attimo a vedere cosa c'è qui poi cazzi tuoi uomo avvisato cerchiamo cerchiamo di non fare la stessa fine to peh allora probabilmente dobbiamo andare di là aspetta che questo si incazzà faccio passare io la voglia di incazzarmi subito no neva madonna quanta cazzo di vita mi ha toguito dai cal però per piacere non capisco bravo l'ho combattuta proprio male questa cosa però bravo ho capito vedi vediamo mogu allora ma senti io avrei bisogno di un punto di meditazione adesso però che è in culo ai lupi l'ultimo che ho finito gli stimio porca troia ah questa è una brutta brutta situazione anche anche perché qui figurati se non ci sono altri mostri cos'è un frammento ah no disco dati a z dobbiamo portarli a z quelli lì ok perché ne avevo trovato un altro prima se vi ricordate un altro steam godo 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 fortissimo se non è da uno così a gratis belli due steam in questo episodio un altro steam ecco qua no me li ha ridati tutti godo godo fortissimo me li ha ridati tutti e cinque non sono quattro uno in più godo godo veramente tanto allora ragazzi io qua toccherà anche salutarci perché stiamo esplorando un sacco allora se tu mi stai dicendo che qui c'è una deviazione io vi saluto qui probabilmente questa me la vado a fare per gli affari miei e per questo quarto episodio direi che comunque abbiamo visto abbastanza abbiamo scoperto un sacco di cose importanti abbiamo esplorato e combattuto tanto noi ci vediamo nel quinto episodio in cui andiamo avanti in questa missione e arriveremo poi fino a qui dove c'è appunto l'obiettivo principale che è quello del meccanismo della foresta spero che l'episodio vi sia piaciuto ci vediamo domani con il prossimo il quinto quinto ciao boys ciao a tutti